L'investimento per ampliare la rete tranviare della città di Palermo è il più grande investimento che servirà a ridurre la pressione veicolare privata. Si prevede che circa 100.000 persone lasceranno la macchina per utilizzare il mezzo di trasporto pubblico negli spostamenti casa lavoro. Credo che questa sia una grande operazione che contribuirà a rendere migliore la mobilità della città, a limitare le emissioni inquinanti in atmosfera e a rendere complessivamente migliore la qualità della vita e dell'area della città di Palermo. Oltre a questo l'investimento tranviario è un'operazione importantissima anche perché rappresenta il più grande investimento in economia per la città di Palermo, un grande investimento pubblico che servirà a dare lavoro a circa 8.000-9.000 persone nei prossimi 10 anni, tecnici, operai, professionisti che lavoreranno alla costruzione della rete tranviaria. Per questa ragione riteniamo che sia un momento molto importante sia per migliorare la qualità della vita dei padermitani sia per contribuire al miglioramento dell'economia della cittadina.